Ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato all'informazione dal territorio veneto e alle ultime notizie che riguardano la giornata di oggi. Un tecnico del gas Flavio Isidoro di 55 anni è rimasto coinvolto in un interribile incidente avvenuto mentre stava lavorando. L'uomo ha perso la vita dopo essere caduto in una canaletta piena d'acqua per recuperare uno zaino che aveva con sé. L'incidente è avvenuto in provincia di Treviso a Istra, la località dove risiedeva. L'uomo era incaricato della lettura dei contatori del gas nella zona ed è, secondo una prima ricostruzione, finito in acqua cercando di prendere il suo zainetto che era caduto in una canaletta. Inutile purtroppo l'intervento da parte dei soccorritori. Per recuperare la salma sono intervenuti i vigili del fuoco. Sull'episodio indagano i carabinieri di Istrana. Da giorni purtroppo le nostre strade sono segnate da numerosi incidenti purtroppo gravissimi e anche numerosi dall'esito mortale. Sconvolgente quanto è avvenuto sulla A31. Ieri dove sono morte quattro persone, tre di loro, divorate da un incendio. Tra le vittime c'era anche una ragazzina di 16 anni che viaggiava con il papà. Ma l'elenco tragico è lungo. Hanno perso la vita anche altri due conducenti in servizio. Fiamme e violente che non hanno consentito a nessuno di avvicinarsi e poter salvare le tre persone che ieri sono rimaste uccise nell'incidente avvenuto sulla A31. L'impotenza davanti a un incidente terribile. Tre persone sono morte e divorate dal fuoco all'interno delle loro automobili. Ancora sconvolti gli altri automobilisti che si sono trovati in quel tratto di strada. Immagini terribili che non potranno mai essere cancellate. I mezzi erano incolonnati per un primo incidente nel quale ha perso la vita un cittadino di origine marocchina. Mentre erano in atto i soccorsi, il traffico si è incolonnato e le auto sono state colpite da un camion. La fase della dinamica è ancora in fase di accertamento, ma l'urto è stato tremendo. Tre auto si sono incendiate in un istante. Uno dei conducenti è riuscito miracolosamente ad uscire dalla porta laterale e mettersi in salvo. Le altre tre persone invece sono rimaste intrappolate in quell'inferno. Le vittime sono Luciano e Arianna Rossetto, padre e figlia di 16 anni. Abitavano in provincia di Vicenza, a 90 Vicentina. Viaggiavano a bordo di una Golf. Ha perso la vita anche il conducente di una monovolume Renault, Florio Pozza, 60 anni, un musicista di Vicenza. La vittima del primo incidente, Murad Bettane, aveva 33 anni. Abitava ad Asti. Parliamo adesso di un importante sequestro di droga avvenuto lungo l'autostrada. Oltre 5 kg di droga nascosti in automobile. Viaggiava così un cittadino rumeno, residente ad Arquapetrarca, arrestato ieri dalla polstrada di Rovigo. L'uomo era alla guida di una matiz bloccata per un controllo. La polstrada era nell'area di servizio San Pelagio, nel comune di Due Carrare, in provincia di Padova. Alcuni motociclisti, 4 per la precisione, avranno guai seri per aver forzato un posto di blocco. È accaduto in Vallarsa, sulla statale 46. Davanti all'alt dei carabinieri, fermi ad un posto di blocco, alto e in posto con la paletta, con qualche titubanza. Prima, poi, i quattro motociclisti hanno accelerato, dandosi alla fuga. I militari in breve tempo li hanno individuati e loro hanno ammesso le proprie responsabilità. I guai a cui andranno incontro saranno parecchi penali, amministrativi, uniti ad una multa salata e la decurtazione di 10 punti dalla patente. Una bella notizia arriva dalla città di Padova e riguarda il territorio. In via Anelli sorgerà la nuova questura della città. Sentiamo. Dal luogo per anni al centro dell'illegalità, a simbolo della sicurezza, a Padova, in via Anelli, sorgerà la nuova questura della città. La notizia è stata confermata e l'ex Bronx, ora luogo abbandonato in disuso, sarà trasformato completamente. Realizzato un accordo di programma tra il comune di Padova con Agenzia del Demanio e Ministero dell'Interno per una permuta tra l'area di Via Anelli, che passerà al Ministero, e l'ex Caserma Prandina, che diventerà di proprietà del comune. Ieri sera è arrivata l'ultima autorizzazione, ha spiegato il sindaco di Padova. Lunedì il progetto sarà portato in consiglio comunale e una volta approvato si potrà dare inizio al piano. Una volta che il comune avrà acquistato dai privati gli appartamenti di Via Anelli, gli stabili saranno abbattuti e nell'area sarà edificata la nuova questura decentrata. Apprese le dichiarazioni rese dal sindaco Giordani, il questore Paolo Fassari esprime grande soddisfazione sia per la decisione di costruire la nuova questura che per l'individuazione di locali dove allocare transitoriamente l'ufficio immigrazione, i cui disagi logistici sono noti. Pur trattandosi del primo passo di una procedura che, auspichiamo, porterà presto a fruire della nuova sede, ha proseguito il questore, è da ritenere che le attività di concertazione intraprese negli ultimi sei mesi da amministrazione comunale, questura, servizio tecnico-logistico della Polizia di Stato, Prefettura ed Emanio, segni oggi una svolta importante e senza precedenti nella direzione auspicata da tutto il personale. Da Padova ci spostiamo in provincia di Venezia, lavoro in arrivo all'ospedale di Dolo, area di competenza dell'ULS 3 Serenissima, la struttura necessita di interventi alla luce delle criticità derivanti dalla vetustà della struttura che andavano rimosse per garantire gli standard di qualità. L'area verrà interessata ad un'ampia opera di ristrutturazione nonché messa a norma, con un finanziamento della regione fino a un massimo di 2 milioni di euro. Esito tragico purtroppo per le ricerche di un uomo, un turista che era in vacanza al mare a Cavallino era in campeggio, l'uomo entrato in acqua a fare il bagno non è più rientrato. Sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato nel tratto di mare a largo di Cavallino o Casavio il corpo senza vita del sessantenne tedesco che era stato dato per disperso. L'uomo in vacanza al camping marina era entrato in acqua per una nuotata, ma nessuno l'aveva più visto tornare a riva o fare rientro nella struttura. I vigili del fuoco attivati dalla Capitaneria sono stati integrati nell'operazione SAR della Compamare Venezia, con personale nautico a bordo della motobarca RAF di Marittima, con il nucleo sommozzatori delle moto d'acqua e con l'elicottero Drago 71. Dopo circa un'ora e mezza di ricerche, l'equipaggio del reparto volo dei vigili del fuoco di Tessera con un operatore via mare hanno individuato l'uomo, dando così le coordinate per far confluire sul posto i soccorsi. Niente da fare purtroppo per il tedesco dichiarato senza vita da personale medico. L'uomo è stato portato al porto di Jesolo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Si sono concluse oggi nella Vicentino due distinte operazioni di recupero di ordigni bellici a presunto caricamento speciale rinvenuti nei territori di Laste Basse e Lugo di Vicenza. Le due bombe sono state fatte brillare stamane all'interno di un'ex cava. A darne notizia è stata la prefettura di Vicenza che ha coordinato le operazioni con il commissario del governo per la provincia di Trento, zona confinante, e le amministrazioni locali, tra cui quella di Folgaria. Le operazioni di brillamento sono state effettuate dagli artificieri del Centro Tecnico Logistico Interforze di Civitavecchia assieme a militari del secondo reggimento genio guastatore di Trento. Sul luogo del disinnesco il supporto tecnico logistico è stato garantito da Vigili del Fuoco e Croce Rossa. Adesso parliamo di un grande appuntamento, anche molto bello e interessante, che si svolgerà questo fine settimana. Oltre il paesaggio, il 26 e 27 maggio a Villa Vescovi, a Luvigliano, sui Cogli Ugani, in provincia di Padova, ci saranno due giornate straordinarie e ricche di appuntamenti. Scopriamoli nel servizio. Sabato e domenica 26 e 27 maggio, protagonista a Villa Vescovi la manifestazione Oltre il Paesaggio, un evento culturale realizzato dal FAI, Fondo Ambiente Italiano, per riscoprire il paesaggio italiano. Un modo per guardare con occhi nuovi il nostro territorio, scoprendo ciò che ci circonda in termini di paesaggio, ma puntando gli occhi anche verso quei particolari che spesso si danno per scontati, l'aria, gli alberi, gli animali e gli insetti. L'edizione di quest'anno vuole evidenziare l'importanza delle api, piccoli insetti che sono di fondamentale importanza per il nostro ambiente. Le api, una delle specie più importanti tra gli impollinatori, hanno un ruolo esenziale nell'equilibrio degli ecosistemi, garantiscono la proliferazione della maggior parte delle piante che danno nutrimento a uomini e animali. Gli insetti impollinatori sono dunque un anello fondamentale della nostra catena alimentare. Senza il loro lavoro, buona parte delle coltivazioni agrarie non avrebbe modo di perpetuarsi e la nostra stessa sopravvivenza sarebbe in pericolo, visto che un terzo del cibo che consumiamo dipende dall'opera di impollinazione. A Villa Vescovi, all'Uvigliano di Torreglia, sui Colli Euganei, gli appuntamenti saranno suddivisi tra sabato e domenica. Presenti all'evento anche l'artista Iulia Artico, famosa per le sue sculture e installazioni realizzate con il fieno, ereduce dallo strepitoso successo alla Biennale d'Arte di Venezia. Gli eventi inizieranno nella serata di sabato, offrendo ai visitatori un evento unico e molto particolare. Incontriamo la direttrice di Villa Vescovi. Sabato sera, grande novità, in primissima edizione Notte nel Verde. Vi invitiamo a trascorrere con noi una notte nella natura, un tipo sogno di una notte di mezz'estate. Si accenderanno qua e là, tra i vigneti, le marasche, il laghetto, tante piccole sorprese di creature della natura, elfi, alberi parlanti, tutte creature che poi pian piano scoprirete, che ci racconteranno e ci porteranno delle piccole sorprese. Invece il giorno dopo, la domenica, abbiamo tutta la giornata dedicata alle api. Il FAI ha attivato una grande campagna nazionale per la sparizione delle api. Villa dei Vescovi è stato il primo bene in tutta Italia che ha aderito e ha messo all'interno del proprio bene otto arnie. E quindi la giornata ruoterà intorno a queste meravigliose piccole creature. Ci sarà un meraviglioso mercato dove troverete tutti i vari tipi di miele biologico e tutte le piante mellifere. Ci sarà questa splendida artista Iulea Artico che con le sue mani veramente fattate fa queste sculture in fieno meravigliose che verranno sparse sulla nostro giardino all'italiana. In più ci racconterà come salvare le api con il metodo biodinamico. Tantissime altre sorprese tutta la giornata. Ecco, un grande appuntamento rivolto ad un pubblico sicuramente di famiglie che possono trascorrere un fine settimana prima forse entrando un po' come dentro ad una favola, no? Sì, assolutamente. Le famiglie sono proprio il target giusto per questo evento e gli offriamo un'esperienza veramente unica e particolare come quella di vivere la notte in un parco del Cinquecento che non è un'esperienza da tutti i giorni e quindi a stare ed esperire le migliaia di piccole creature, di piccole sorprese, di piccole sensazioni che la natura ci può regalare. E anche il giorno dopo, ovviamente, con luce diversa e mille altre sorprese, le famiglie avranno da che divertirsi. Parliamo ancora di appuntamenti, questa volta però parliamo di sport. Dal 25 al 27 maggio, 1500 atleti saranno a Caorle per un grande appuntamento sportivo. Si è tenuta al Coni Point di Mestre la conferenza stampa di presentazione dei giochi del Veneto estivi che si terranno a Caorle dal 25 al 27 maggio. Presenti il presidente del Coni Veneto Gianfranco Bardelle l'assessore allo sport del comune di Caorle Giuseppe Boatto il campione olimpico e mondiale di canottaggio Rossano Galtarossa e il segretario regionale del Coni Francesca Grana. Alla piccola Olimpiade Veneta partecipano 18 federazioni sportive e saranno più di 1500 i giovani atleti under 14 provenienti da tutte le province del Veneto che saranno in gara. I giochi sono validi per la qualificazione alla fase finale del trofeo nazionale Coni Kinder Pure Sport che si terrà a Rimini l'ultima settimana di settembre. Numerosi e vari gli sport che verranno praticati nel corso della piccola Olimpiade del Veneto. Inoltre sabato alle 10 si terrà al centro civico comunale di Caorle il convegno Etica e Sport nel corso del quale l'assessore regionale allo sport illustrerà la carta etica documento a cui le federazioni e le società sportive dovranno aderire per poter accedere a finanziamenti regionali. È un momento molto importante per il Coni Veneto anche questa volta la città di Caorle ci accoglie a braccia aperte accoglie lo sport di 18 discipline sportive e questo per noi è molto importante. Ci saranno 1500 ragazzi dai 7 ai 14 anni che assieme si divertiranno, partecipano a importanti discipline come la scherma, la pallavolo, la pallacanestro, il ciclismo, il rugby ma anche altre discipline sportive che sono molto attraenti come il badminton, il golf, la dama, l'orientamento eccetera. Ed ora uno sguardo alle condizioni climatiche previste per la giornata di domani sul Veneto nuvolosità irregolare soprattutto a cavallo delle ore centrali alternate a tratti di sereno più ampi fin dal primo mattino e dal pomeriggio sera. È tutto per questa edizione vi ringrazio per l'attenzione vi auguro una buona serata e un buon proseguimento con i programmi di Telecittà. Arrivederci. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS